Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di Hunger Games Oggi siamo qui come al solito per perdere, perché io sono un grande pro negli Hunger Games E quindi direi di iniziare una partita in Citadel Ok, aspettiamo che arrivino anche gli altri Ok, mancano due secondi prima che il gioco inizi Dobbiamo partire già di scatto a prendere tutte le ceste Anche se non sono mai capace di fare questo Comunque direi di prendere il kit Knight Non l'ho detto bene Beh, almeno l'obiettivo di oggi è fare una kill Speriamo di riuscirsi No, io non ci riesco quando faccio il video Non riesco mai a fare una kill Diamante E l'hai presa? L'hai presa? No, non ho fatto una kill Non l'ho presa Il diamante non l'ho presa comunque Quanti giorni c'era? Uno Uno, ma l'altro, ma sei sordo? No, mamma mia, stai facendo un video Adesso cerchiamo di uccidere Snyder 11 Con la mostra ultra accetta della morte Cazzo ralla però eh Stai forte, aiuto, aiuto No, dai, ma non vale, usa i jeep Attacca da un chilometro di distanza Ma aspetta, cos'è? Che ha di... Spade di... di legno E tu non hai l'armatura? Si che ce l'ho C'è un pezzo d'oro E l'altro di qualcosa Ma dai! Che schifo Riproviamo Questa volta faccio il carico Versione 2 E che bello, siamo già in 4 Ah no, ok Vabbè, attendiamo che si carichi 11 secondi 12, 11, 10, 9 3, 2, 1 Ok, come al solito Night Anche non Night Ok No, dai, è l'ultima Non è passata, no L'ultima, dai Che schifo Ok 10 secondi 5, 4, 3, 2, 1 Dai, prendi E dai però Capiamo che c'è già qualcuno che uccide le persone Dov'è che scappo? Od, mamma mia Od, mamma mia Od, mamma mia Capo qui sopra Stavolta Stavolta cercherò di Di stare Allo scu... Non mi farò mai trovare dai giocatori Ecco, proprio che non ho già preso sta cesta Com'è quello che c'è davanti Quindi Alessiamoci Scaliamo questa montagna E vediamo se qua sopra ci sono delle ceste Ho già visto una? Oh, finalmente Una spadina Anzi, un'accetta E' arrivato pure il kit Quindi Meglio Così Cerchiamoci a arrivare qui sopra Prendiamo questa cesta Mmm, dei piedini No, anzi Ce li ho anche più forti Non dovrei fare queste cose che poi cado ecco 25 di potenza Quattro anni Vabbè Comunque qua Qua dentro c'era un tizio Quindi Commetto che tutte le ceste sono state rubate Mmm, siamo da... Tra gli ultimi otto Tra gli ultimi sette Che bravi che siamo Che siamo? Che siamo? Che sono? Vedo ho rubato tutto Ho rubato tutto Che bello Oh, oh Oh nooo, mi ha visto, mi ha visto, mi ha visto Maledetto, maledetto Ma cos'è che c'ho? Cerchiamo indietro Non fargli calmo Maledizione Sopravvissuto con due di vita Basta un ultimo colpo E vincevo Mi hai rimasso anche il peggio di lui Quindi pure anche per un po' Eh no, perché io facevo tipo il peggio salto E non gli facevo capire niente Eh, questo qui che fanno Vabbè Non so se hai capito Comunque direi di ricominciare da capo Gli Hunger Games Però almeno Abbiamo fatto un obiettivo Siamo Sono arrivato tra gli ultimi sette Sto per doppiare uno Sto per doppiare uno Se sentite dei rumori di sottofondo È il mio fratello che sta giocando È un gioco di macchina Ok Ho doppiato quattro persone Ok Eh sì Però se no mi prendo il kit Ecco Il kit No Ok Speriamo di riuscire a vincere Anche se Sicuramente non ci riusciremo Solo una volta io ho vinto Tipo Ero arrivato Ero arrivato al deathmatch E in qualche modo avevo vinto C'avevo pure dei cani Che mi aiutavano boh E dai Dobbiamo prendere dentro No Io ti aiuto scappa 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 Più veloce che poi Più veloce che poi Più veloce Poi Dentro veloce che poi Una spada Una spada Una spada Una spada Una spada di legno Una spada di legno Una spada di legno Cos'è che facciamo? Protezione Sì Sempre meglio Sempre meglio Sempre meglio Sempre meglio Ok dai Prendiamo questa cesta Ah è Aspetta Io ho fatto Non ci basti E scappiamo Scappiamo più veloce che possiamo Non dobbiamo farci vedere da nessuno Da nessuno Da nessuno Da nessuno Sì Sto ripetendo le stesse robe Ok Cerchiamo di scalare questa montagna Qua appunto sono pure nel parkour Infatti siamo appena caduti Ok Speriamo che qua sopra ci sia una cesta Che non abbia fatto questo No No mi hanno chiuso dentro No mi sono chiuso dentro Muoio muoio Qui muoio no dai 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 ce la stavo vicendo Dai Ti prego ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Ce la puoi fare Dai No 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 Dai Dai Vai 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 Maio Va bene Va bene Aspettiamo che qualcuno ci venga a prendere Se posso usare le mele per fare un blocco di mele Un blocco di mele? Poi posso farci la calzamaglia Non funziona Si la calzamaglia di mele Poi magari posso fare la spada ultra Più la calzamaglia assieme di mele Più la calzamaglia di mele Più la calzamaglia di mele Più la calzamaglia di mele Ehi va bene Ehi va bene Sopravviverò qua dentro mangiando mele fino a quando non arriverà il deathmatch che è Tra 30 secondi Ok 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 Dai devi tagliare la postata Ah 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 Beh allora Wow siamo Sono tra gli ultimi due player Wow Wow Ah 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 Dai dai Ok Ok Mi riordino la spada Poi prendo la canna da pesca Che non serve niente Toggo la track in bussole Poi prendo la mela Ok 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 Maledizione non funziona ancora Dai ma che schifo dai impossibile Cazzarola impossibile impossibile Questo qua è impossibile È impossibile È impossibile Se vinco 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 Ti prego Noo maledizione Però era arrivato il deathmatch eh Un altro grande obiettivo Com'è qua Com'è arrivare al deathmatch per 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 sfortuna Altro che fortuna Per sfortuna Che schifo Ah Basta Giochiamo a A A A A A Skywars ok Va bene almeno qua Sono più Non sono più bravo Giochiamo a No no Non volevo fare il team Che schifo che schifo che schifo Ma ti è meglio No Da che schifo Continuo almeno Dai scelgo 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 il default Dai 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 Wow Bravo il default Complimenti Ho scelto proprio quello smigione eh Allora scelgo il Sometime Smith E prenderebbero la consiglia della villa Eccolo credo Una spada di diamante e una cucina di diamante Una cucina di diamante Sono rimbambito troppo da aver perso No 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 Piazza Hai preso la villa Piazza la villa La villa Che schifo la prega C'è un libro con protezione 3 Ah si E Che cacchio fai Tollite Cos'è Per rubare l'esperienza Guardate 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 eh Dai speriamo che Che basti questa esperienza Perchè sennò mi suicido Ok Vediamo vediamo Oh 3 soltanto Bene è meglio Ok Ah Che bella C'è splatte Oh oh c'è qualcuno qua sopra Ah no è un mio alleato Spero di sì Perchè è caduto Salta Ok Non siamo stati presi dalle frecce Quanto sono bravo Come al solito Il più bravo Dei più bravi Dei bravali Ma c'è scuota perchè è la terra degli altri ovviamente Mod insane Sai non mi piace questa mod Ok Corri Adesso sfungo più vicino Ok 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 prendi questa cesta Che è vuota sì Ok Loro da dietro Da dietro da dietro Attacca 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 Sono morto Stavo per vincere Per poco ragazzi Per poco Guardate questa è la terra dei Toad Piena di funghi Di Super Mario Vabbè comunque per questa puntata è tutta Noi ci vediamo in un'altra puntata Di come fa Lorenzo a perdere Negli Hunger Games e altro Si No Ciao a tutti Ciao a tutti